Il villaggio turistico torna a Praia Mare dopo le festività natalizie. Siamo nel periodo pasquale e anche in questo caso Praia Splende. Ne abbiamo parlato con l'assessore Antonino De Lorenzo. Assolutamente. Abbiamo pensato di fare due giorni per quanto riguarda spettacoli veri e propri. Effettivamente già questa sera ci sarà la Via Crucis che è l'ottavo anno ed è una manifestazione in cui l'associazione Vandone della Grotta si impegna tantissimo. Grande mano è stata pure dall'assessore Ceglia che ha seguito tutti quelli che sono i passaggi operativi di questa programmazione. La parte più civile di spettacolo partirà il 15 e il 16, quindi il sabato di Pasqua e la domenica di Pasqua con una vetrina turistica vera e propria. Non sono classici spettacoli ma c'è una parte per quanto riguarda la messa in vetrina appunto dell'offerta turistica diversificata. Quindi non solo quello che è il mare ma soprattutto quello che è l'entroterra. Quindi si darà spazio a chi fa escursioni, a chi offre sport all'aria aperta ma anche ad artigiani locali che potranno esporre le loro produzioni. Il tutto sarà praticamente il filo conduttore, sarà un pre-village che è quello che ormai da diversi anni viene fatto a pre-a-mare nei mesi estivi. Quindi grande accoglienza per le famiglie, grande accoglienza per i giovani e per i bambini che sono il mio cruccio di questi cinque anni. Quindi dare un'offerta importante a quello che sarà il nostro futuro. Anche perché è un target turistico rilevante per quanto riguarda pre-a-mare. Il 16 continua l'offerta di spettacoli sempre con la vetrina turistica, con quelli che sono i mercatini. Ci saranno dei momenti di spettacolo differenti in tre location principali. Si parte in Piazza Italia con una promozione per quanto riguarda le discoteche locali con un circus, quindi uno spettacolo abbastanza scenografico che verrà offerto quindi dalle 18 fino alle 20 e 30. Dalle 19 parte una manifestazione di karaoke in Piazza Municipio e poi l'evento principale che è il concerto dei Qui Si Suona dalle 21 e 30 in Piazza della Resistenza. Un evento importante questo dei Qui Si Suona in cui il frontman è oltre ad essere un carissimo amico è colui il quale ha scritto la canzone del Volo Grande Amore. Quindi abbiamo una valenza artistica estremamente rilevante, ha una presenza scenica notevole quindi l'invito è partecipare, far partecipare chi vuole assistere a due giorni di spettacolo importanti e naturalmente questa sera ha una manifestazione che ha una carattere, una caratteristica spirituale elevatissima.